Oltre a una bella vetrina che mette in mostra il meglio dell'orificeria a retina, Oro Arezzo deve anche tornare a quel tipo di evento che porta soprattutto gli ordini per le aziende. Questa è una delle prime richieste di Gabriele Veneri, neoeletto alla presidenza degli orafi di CNA. Ex giostratore di Porta del Fuoco, 45 anni, alla guida di Semar, azienda di famiglia, con 50 addetti e un indotto di altri 100. Io l'ho sempre vista come il salotto dell'orificeria, ho sempre partecipato con grande orgoglio e con grande senso di appartenenza. Spero che nella prossima edizione sarà un'occasione non solo per mostrare un bel salotto ma per fare business, perché noi oggi non abbiamo bisogno di fantasia, abbiamo bisogno di fatti e di concretezza, perché i nostri costi aziendali, delle nostre aziende sono fissi e ci sono tutti i mesi. Quindi credo che sia finito il momento di farsi vedere più belli di quelli che siamo. Quindi mi auguro che la fiera, che è cresciuta e che è più bella, porti anche la concretezza che tutti si aspettano. Anni fa, ma parlare di passato nel mondo dell'impresa, credo che sia come leggere un fotoromanzo o un romanzo, aveva sempre un lieto fine. Tu partecipavi a tre o quattro fiere all'anno, avevi il lavoro per tutto l'anno. Oggi purtroppo durante le fiere non si fanno più dei business come una volta, che ti permettevano di avere un tempo lungo di lavoro. Oggi principalmente si mostrano i nuovi prodotti, è un modo per incontrare una clientela internazionale che si vede in certe occasioni, quindi durante le fiere, per parlare di nuove idee, magari da condividere. È chiaro che i costi anche di partecipazione alle fiere sono molto alti, quindi ci deve essere un equilibrio. Spero che si possano fare dei buoni business, perché come ti ho detto prima, tutta la categoria ne ha bisogno.